Comincio questo emiciclo rispondendo subito a un'obiezione che alcuni muovono. Tu non sei più iscritto al Partito Democratico, dunque perché te ne occupi? Perché sono un giornalista. Sono un giornalista, quindi ho tutto il diritto, anzi il dovere, di occuparmi delle vicende di un partito nel quale innanzitutto ho militato per anni e che quindi mi sta anche a cuore in qualche modo, nonostante la sua deriva. Ma poi ho tutto il diritto di dare le notizie, anzi ho il dovere. Non è che un giornalista delle Juventus non si occupa dell'Inter o uno del Real Madrid non si occupa del Barcellona. Il giornalista si occupa di tutto quello che succede. Politicamente mi occupo da anni di Casa Pound, mi occupo di Forza Nuova, mi occupo della Lega, mi occupo dei Cinque Stelle e non vedo perché non dovrei occuparmi del PD. Qui all'emiciclo daremo spazio a tutti, nel bene e nel male. Quindi qualche fessacchione che non conosce la deontologia professionale che noi dobbiamo portare avanti e che non apprezza coloro che sono schierati ma sono anche giornalisti e quindi sono persone che comunque hanno una loro obiettività nonostante la necessità poi di esprimere la propria idea, quello che io avverto come dovere morale e civico, è un problema loro. E vengo al protagonista di cui vi avevo parlato ieri. Ieri avevo annunciato che mi sarei occupato di un ragazzo di 30 anni. Ragazzo di 30 anni, si chiama Dario Corallo, che è un membro della Segretaria Giovanile dei Giovi Democratici, laureato in filosofia, membro ricevo della Segretaria Nazionale dal 2016, è iscritto fin dalla fondazione alla sezione del Laurentino 38 nella periferia di Roma e correrà contro Nicola Zingaretti, Matteo Richetti e Francesco Boccia, finora candidati, forse anche Cesare Damiano. Cosa mi ha colpito di questo ragazzo? Perché ho deciso di occuparvi di lui? Sentite quello che scrive. Poi posto una foto, tratta dalla Perugia Assisi. L'ho scattata ieri, alla Marcia della Pace, e benché io oggi non riesco a camminare dal dolore alle gambe, sono contento. Sono contento perché ho rivisto quello che naturalmente dovrebbe essere il nostro popolo, quello fatto di tante persone che sono mosse dal solo desiderio di cambiare un pezzetto di mondo. Quello che vedete, aggiunge, è lo stesso popolo che negli anni i nostri dirigenti ci hanno detto che avremmo dovuto odiare, quello fatto di persone che mille hanno in altri partiti, in associazioni che hanno avuto da ridire su alcune cose fatte dal PD e che invece che essere ascoltate sono state insultate. E ancora, è inutile che i nostri dirigenti si facciano due dei 25 km di marcia, giusto il tempo di farsi la foto giusta, poi fatta girare ad arte. È inutile se poi quando governi va in direzione opposta e contraria. È inutile se poi quando perdi dici che quel popolo non ha capito. È inutile perché quel popolo lì non vi crede più e sinceramente a non credervi siamo in tanti. E ancora, mi candido per una serie di motivi abbastanza semplici e allo stesso tempo cruciali. Sono sei mesi che aspettiamo che qualcuno si renda conto che abbiamo preso il 18%. È inutile dire abbiamo capito se poi ci prepariamo a celebrare congressi con gli stessi che hanno distrutto tutto. Prima di qualsiasi proposta e di qualsiasi slancio occorre dirci con chiarezza che è necessario un azzeramento di ciò che il PD è stato fino a oggi. Basta con un partito forte con i deboli e deboli con i forti. Basta con la cooptazione clientelare della classe dirigente. Basta con i notabili che con il controllo dei pacchetti di tessere preservano le loro posizioni indipendentemente da chi svolge il ruolo di segretario nazionale. La rontamazione non c'è stata. È tempo per noi democratici di una vera rivoluzione. E ancora, noi siamo i delusi. Quelli che sono iscritti ma si sentono soli. Quelli che erano iscritti hanno mollato. Quelli che non sono mai stati iscritti ma un tempo votavano e che ora non ci credono più. Ci candideremo senza mezzi contro questo spettacolo ridicolo di dirigenti fallimentari che oggi chiedono di poter continuare a governare questo partito spacciandosi per il nuovo Cavanza. Ora, non la leggo tutta perché è abbastanza lunga, però vi ho voluto leggere alcuni passaggi cruciali di questa lettera accorata che questo ragazzo ha postato. Perché? Perché vi invito sì a stare attenti. Nel senso che di serracchiani che urlano quanto sono sgomente per la direzione del partito e poi una volta che arrivano nella stanza dei bottoni si comportano come peggio di coloro che avrebbero voluto rottamare. Ne abbiamo già viste. Di 60 team diventati pompieri ne abbiamo visti. Di 70 settini diventati berlusconiani pure. Potrei stilare un elenco lungo da qui a Milano. Però, però, una cosa è sicura. Io di solito questo tipo di candidature così dirompenti, di ultramovimentismo, ci credo sempre poco soprattutto quando vengono dall'interno di un apparato di partito perché mi sembrano sempre delle scalate e dei tentativi di rottamare appunto alla classe dirigente di prima non per fare altro ma per fare le stesse cose al posto di chi le sta facendo in questo momento. E può anche darsi che questo corallo poi ci deluda come tutti gli altri. Io non voglio mettere la mano sul fuoco. Non lo conosco nemmeno personalmente. Quindi non posso dirvi se sia veramente conseguente o no. Se sia una persona intellettualmente onesta o meno. A quanto pare sì. Però non posso metterci la mano sul fuoco. E quindi un po' di precauzioni vi invito a prenderle. Però una cosa ve la voglio dire su questo ragazzo. Questo ragazzo sicuramente merita di essere sostenuto per un motivo. che getta il sasso dello stagno, increspa le acque. Finalmente dice quello che dovrebbero dire quei dirigenti importanti che si candidano e che non stanno dicendo nulla purtroppo di diverso e di alternativo. Io non ho sentito ancora da Zingaretti, da cui pure andrò il 14 ottobre prossimo, non ho sentito ancora una critica dura nei confronti di quello che è stato il Partito Democratico. Non l'ho sentito... Vabbè, da Richetti non me l'aspetto nemmeno. Richetti è il volto gentile del renzismo. Anche il mio amico Francesco Boccia, che è un'ottima persona che vuole candidarsi per riportarlo a sinistra. Boh, io pure da Francesco ho sentito poco di quello che avrei voluto sentire. Lo dico con sincerità. L'unico che ha scritto è che questo partito ha fallito tutto negli ultimi anni. Che non ha varato lo Jussoli, non si è capito perché. Che ha distrutto i diritti dei lavoratori, non si è capito in nome di chi. Che ha rotto i rapporti col paese e soprattutto che ha insegnato alla propria base a odiare chiunque non stesse al proprio interno. Fino ad arrivare a delle rotture storiche che sono alla base del disastro che è andato incontro il PD negli ultimi anni. Beh, questo ragazzo che dice una cosa del genere, se anche solo riuscisse a porre all'attenzione uno dei temi che ha esposto in quella lettera che vi invito ad andare a leggere sul sito dell'Agenzia Dire Giovani se riuscisse a imporre all'attenzione uno di quei temi il PD forse tornerebbe un partito col quale confrontarsi e per il quale forse potrebbe pure valere la pena tornare a votare data la disfatta di tutti gli altri. In caso contrario no. Poi lo ripeto, io sono uno di quelli che non è neanche convinto che questi arrivino a congresso. io non so nemmeno se ci arrivino, ne parleremo, vi annuncerò nei prossimi giorni che ci sarà un omiciclo speciale, in un giorno che vi dirò, già lo sto preparando però il punto fondamentale è che questi dal punto di vista politico sono alla canna del gas è un ragazzo che pone dei temi in un momento in cui non c'hai più niente da perdere e c'hai soltanto da rimetterti in cammino rimboccando le famose maniche in un momento del genere anche questo pazzone qui che tira fuori una cosa da matto e si candida così con questo impeto Sturmundrang che può apparire perfino bislacco può essere utile e quindi meritevole di essere sostenuto una persona che comunque è degna di essere portata all'attenzione. ci tengo infine a parlare, scusate se mi dilungo, ma c'è un fatto importante lo segnala oggi Fabio Martini sulla sua pagina Facebook, sulla sua barriera Facebook Fabio Martini racconta la storia tragica di alcuni commenti contro il direttore di Repubblica Calabresi sul blog delle stelle, io voglio dirlo con molta franchezza si può preferire Repubblica o un altro giornale si poteva preferire quella di Ezio Mauro o quella attuale si poteva preferire la stampa di Calabresi o si può preferire quella attuale di Molinari queste sono opinioni ciò che non si può fare è scrivere attento Calabresi che si apre la finestra o cose simili perché queste sono minacce di morte io sono stato a Pagano davanti alla lapide che ricorda Luigi Calabresi, padre di Mario sono stato a Piazza Fontana davanti alla banca dove c'è stata la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69 ho visto la lapide ricordo di Giuseppe Pirelli conosco bene quella storia conosco bene la tragedia che ne è seguita so bene cosa significa in un paese come il nostro quando comincia a spargersi il germe dell'odio sono d'accordo con Fabio Martini che è un paese che ha avuto l'Ebbiere in arra debba stare attento a questi rigurgiti di barbarie e quindi esprimo piena solidarietà a Mario Calabresi e alla redazione di Repubblica e invito il Movimento 5 Stelle a stare attento al proprio elettorato perché hanno creato cari amici delle 5 Stelle avete creato dei piccoli mostri non è tutta così la vostra base ma quella parte della vostra base che è così dovete contenerla avete il dovere morale di difendere la democrazia e di difendere le istituzioni perché oggi non siete più quelli dell'assalto al cielo oggi voi siete il governo e dovete assumervi le vostre responsabilità noi ci vediamo domani e a meno di cataclismi domani ci occupiamo di sindacato e della probabile ascesa di Maurizio Landini alla segreteria della CGL a meno di cataclismi ovviamente grazie